Questo nuovo decreto di cui tra l'altro io sono stata relatrice in commissione ha l'obiettivo principale di aumentare la tutela del consumatore partendo da cose che possono sembrare banali ma sono fondamentali. Innanzitutto la richiesta quando si fa una vendita via telefono o fuori dai locali commerciali in generale se si vuole sottoscrivere il contratto in forma scritta o meno. In modo da evitare tutti quegli abusi che tutti un po' noi subiamo con le vendite telefoniche oltre ad essere invasive sono anche pericolose perché ci cambiano i contratti senza rendercene conto. E poi allunga i tempi di recesso e semplifica anche, fa chiarezza sulle acquisti online. Quindi possono sembrare delle cose non influenti ma sono sostanziali per migliorare l'acquisto che si rende normale oggi con il cambio delle tecnologie anche attraverso i computer con le vendite online però si mette un punto, una chiarezza sul fatto che deve essere scritto anche sul monitor quando uno schiaccia un tasto che quel tasto procede a confermare un acquisto piuttosto che. In ultimo la legge prevede un modulo di recesso universale, il recepimento della direttiva che quindi deve essere reso noto dai venditori tramite il quale si può annullare l'acquisto fatto in un tempo più lungo che diciamo riconosciuto a livello europeo in modo standard.